Mario Balotelli, ospite di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio, si è raccontato in una lunga intervista in cui ha spaziato dalla carriera alla vita privata. Il calciatore 32enne ha due figli, nati da due diverse relazioni, a cui è legatissimo, Pia, 8 anni, avuta da Raffaella Fico e riconosciuta ufficialmente solo nel febbraio 2014 dopo un lungo e molto mediatico processo in tribunale, Lion, nato nel 2017 dall'amore con Clelia Carlin, bancaria e modella, ma tanti fanno notare che il piccolo è la copia esatta di un'altra ex del calciatore, Fanny Negua. Molto incline ai flirt, Mario Balotelli ha sempre faticato a restare in una relazione a lungo. E ora, ospite di Fedez, ha ammesso di avere qualche rimpianto, non ho mai creato una vera famiglia, nel senso che stare con una donna, amarla, sono cose che non ho mai avuto in vita mia. La cosa difficile è non avere sempre i figli con me, questo mi arreca tristezza, ma mi sono abituato. Balotelli parlando con Fedez si è aperto anche sulla sua difficile infanzia. Il giocatore è infatti nato a Palermo da una famiglia di immigrati ganesi, poi trasferitisi a Bagnolo Mella, nel Bresciano. Nei primi tre anni di vita ha avuto gravi problemi all'intestino che lo hanno costretto ad una serie di interventi chirurgici, sono stato due anni in ospedale. A causa dei suoi problemi di salute e delle difficoltà economiche, i genitori naturali, Thomas e Rose, chiesero l'aiuto dei servizi sociali. Mario fu così affidato, quando aveva quattro anni, alla famiglia Balotelli, dove è cresciuto insieme agli altri tre figli della coppia, il papà adottivo, Francesco, è morto nel 2015, quando sono andato in affidamento ne ho sofferto, all'inizio non lo capivo, ero troppo piccolo, ma una volta cresciuto ho avuto il coraggio di parlarne e affrontarlo e capito che la mia famiglia lo ha fatto per me, perché non potevano darmi ciò di cui avevo bisogno, mi hanno aiutato. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.